Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile. Anch'io, infatti, sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che egli ha scelto fin dal principio. Ora, io vi dico, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta alle genti per suscitare la loro gelosia. Paolo continua la sua riflessione piena di affetto verso il popolo di Israele e di fronte al no che ormai tanti del suo popolo dicono alla predicazione di Gesù, Paolo si pone la domanda decisiva. Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Non lo considera più suo popolo? Il popolo eletto non è più il popolo amato da Dio? E la risposta di Paolo arriva immediatamente. Impossibile. Impossibile che Dio ripudi il popolo di Israele. Perché? Perché come dirà, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili e Dio ha fatto una scelta e il popolo di Israele è amato a motivo dei padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Poi Paolo aggiunge anche Anch'io sono israelita. Israelita vuol dire ebreo che sa parlare ebraico, che sa e conosce la legge di Dio. E poi ancora Paolo proclama sono della discendenza di Abramo, il grande padre della fede, che ha dato inizio alla storia di Dio tra gli uomini e che anche noi cristiani, grazie al popolo di Israele, chiamiamo nostro padre. E poi aggiunge anche con un tono quasi di orgoglio appartengo alla tribù di Beniamino. Dalla tribù di Beniamino era uscito il primo re, Saul, di cui appunto Saulo, Paolo, portava il nome. Nella tradizione giudaica c'era un commento che parlava della tribù di Beniamino come l'esempio di fede perché quando Israele è uscito dall'Egitto e si è trovato davanti al mare, dopo che Mosè, invocato Dio, ha steso il suo bastone, la prima tribù che ha avuto il coraggio di entrare nel mare fino a quando l'acqua era arrivata fino a sopra il ginocchio è stata la tribù di Beniamino che ha avuto fede e proprio questa fede poi ha contribuito al grande gesto di Dio, al grande miracolo di Dio di trovare una strada nel mare. Dunque Paolo rivendica la sua appartenenza al popolo di Israele, alla tribù di Beniamino e quindi riafferma ancora una volta con una frase chiara, netta Dio non ha ripudiato il suo popolo che egli ha scelto fin dal principio. Ma nello stesso tempo Paolo sa che il popolo di Israele, che la maggioranza degli ebrei sono diventati nemici del Vangelo. E allora Paolo ha affermato nella lettera ai Romani una frase sulla quale sempre dobbiamo ritornare anche nella nostra vita spirituale. Ha detto tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E dunque Paolo pur dentro a questa domanda, a questo interrogativo come mai è accaduto questo, come mai tanti miei fratelli dicono di noi al Vangelo, deve riconoscere che tutto concorra al bene. Anche questa ostilità e la risposta allora della meditazione di Paolo emerge in questa maniera. Non sono inciampati per cadere per sempre, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta alle genti. cioè la salvezza l'annuncio del Vangelo ha trovato come uno slancio una forza di penetrazione all'interno del popolo pagano, del popolo greco, del popolo romano proprio a motivo del no. Il no degli ebrei ha spinto gli evangelizzatori ad aprirsi alle comunità delle città pagane. Dunque il no è stato come la causa dell'ampliarsi della missione, di quel creare una caratteristica del popolo assolutamente nuovo, essere il popolo fondato sulla pietra angolare che è Gesù risorto, che supera qualsiasi tipo di elemento culturale. Non è legato a una determinata cultura, non è determinato da una particolare etnia, ma per sua natura, grazie anche al no degli ebrei, si è aperto a qualsiasi uomo, perché Dio non fa preferenze di persone, ma a tutti coloro che accolgono in nome di Cristo viene donato lo Spirito Santo e partecipano in pienezza alla dignità dei figli di Dio. Dunque Paolo riconosce che c'è come un disegno misterioso nascosto anche dietro al no di Israele e accanto a questa prima risposta amplia ancora la sua meditazione dicendo che alla fine se il no ha causato questo ampliarsi della missione quanto sarà grande, bello, il momento in cui la totalità di Israele ritornerà, non perde questa speranza, anzi è certo perché le promesse di Dio sono irrevocabili. Di fronte a questa meditazione noi possiamo da una parte meditare sulla certezza che Paolo ha e che ogni credente ha che tutto concorre al bene che anche quando troviamo un no quando troviamo anche con realismo dei momenti duri nella nostra vita nella vita della comunità cristiana senza negare la sofferenza per ciò che accade dobbiamo essere sempre certi attraverso questi momenti anche di caduta sia nostra che di altri Dio porta avanti il suo piano di salvezza Dio non viene meno alle sue promesse e questo dà forza al credente San Paolo dice siamo colpiti siamo messi alle strette tante volte nella nostra condizione sia di cristiani sia di testimoni del Vangelo ma dobbiamo mai essere vinti perché riconosciamo che la potenza del piano di Dio supera ogni ostacolo poi dobbiamo come riconoscere ancora la forza delle promesse di Dio questo vale anche nella nostra vita personale penso alla mia vita di presbitero nel momento della mia ordinazione Dio si è impegnato sulla mia vita ha detto una parola forte mi ha chiamato al suo servizio ecco anche dentro le mie debolezze anche dentro i miei dubbi devo essere certo che la promessa che Dio ha fatto su di me la porterà a compimento e questo vale anche per una coppia di sposi che si è sposata con consapevolezza di fronte a Dio deve essere certa anche attraverso le crisi che Dio porterà avanti quella promessa non potrà mai venire meno perché Dio si è impegnato infine credo che oggi dobbiamo rinnovare il nostro affetto per il popolo di Israele per sentire come grazie proprio a questo popolo è arrivato Gesù e sono mantenute le grandi promesse la grande storia in cui Dio si è fatto conoscere oggi preghiamo per il popolo di Israele ricordo oggi a tutti i parrocchiani che questa mattina è a disposizione nella cripta Don Franco Campello per le confessioni questo anche per dare possibilità di prepararsi al dono dell'indulgenza in occasione del ricordo dei nostri defunti di 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 Grazie a tutti